Buongiorno, mi chiamo Paola Pelizzari, ho 55 anni e sono arrivata qui in Moldavia. È una vita che soffro, che sono sempre dal dentista, non c'era mai niente che andava bene. Per anni ho abbandonato tutto finché mi sono ritrovata completamente senza denti dietro e la mia scelta era una cosa definitiva una volta per sempre. Oggi mi sento alle stelle, sono felicissima, ho proprio voglia di sorridere, di ridere, proprio una felicità interna meravigliosa. A settembre sono ritornata, ho ritrovato il chirurgo che mi ha fatto esattamente 11 impianti. Vi dico che non è una passeggiata ma passa. Poi ho trovato un protesista meraviglioso, Michele. Paura ma nello stesso tempo ero contenta perché pensavo che tutto comunque si sarebbe risolto in breve tempo. Quello che invece in Italia non è mai successo, anzi erano tutti step e ogni volta avrei rimandato l'appuntamento perché l'ansia di sentire il male e cose, invece qui entri in un tunnel, sei dentro e ci devi uscire. Io vi consiglio di venire in Moldavia perché intanto se voi pensate che l'Italia sia il top è il contrario. C'è uno staff meraviglioso, dal primo all'ultimo, dai recepzionisti alla logistica, alle manager, ai protesisti, ai chirurghi. Ragazzi fatevi coraggio, venite in Moldavia. Oggi penso che potrò cominciare anche a volare con i miei denti. Gli occhi parlano ma anche la tua bocca perché quando fai fatica ad aprire la bocca perché comunque ti senti un po' a disagio parlisi con gli occhi però insomma il sorriso, la sicurezza che trasmetti tramite la bocca è fondamentale. Adesso ho proprio voglia di ridere tutta la giornata. Felicissima. Venite da Dottor Palmas perché veramente trovate il top. Ciao ragazzi.